Io ho conosciuto lo Dionino per una mangiata di panelle, che era con gli amici. Io abitavo in via D'Amuso e perciò una volta dopo che mi ha visto non me la sa mai più, sempre perché mi ha ingrancato, mi ha chiesto che cosa vuole, chi ha? Ma siccome a me mi piaceva che era bello, io magari dopo ho fatto l'età, ma però non poteva entrare se prima non usceva la mia sorella, ai tempi, ai tempi. Non è come oggi, con il telefonino, con i fidanzati, si baciano, si fanno, si dicono, niente. Io era solo aspettare, aspettare che si sposava la mia sorella e poi la mia fidanzata è entrata. A 18 anni è entrata, è venuta una pena. Noi erano cinque, cinque e poi stavo facendo il baniello. Questo qua mi hanno portato, con i cioccolatelli. E lui era felice, felice che io a spiegare al matrimonio. E così via via, 9 anni fidanzata. 9 anni fidanzata. 59 anni sposata. Io ho cresciuto nella famiglia Costa, la nonna Tina. Hai capito? E questa è la mia vita. Oh no la Austin. E allora? Grazie.